Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi volevo registrare un make up tutorial il primo make up tutorial che realizzerò per le feste allora intanto ho già fatto la base con ah volevo dirvi un altro oggi ho cambiato location perché appunto è Natale e io ho dobbiato già la casa infatti vi faccio vedere aspettate se riuscite lo vedete quello è il mio albero un po' ho fatto l'inquadratura ma comunque quello è il mio albero ecco ecco e allora ho cambiato location perché è un po' più Natalizia beh non c'è molto adesso qua in sala ma comunque volevo farla con l'albero insomma ecco per far capire che comunque è il make up delle feste vando alle ciance iniziamo subito ho già fatto la base con questi due rispettivamente fondotinta di bottega di lunga vita e il correttore di Avon della linea Extra Lasting e sono questi due adesso adesso vado avanti col trucco ecco spero che se metto così lo specchio lo vediate lo stesso ecco forse così non vi deve entraggia comunque vado a togliere gli occhiali comunque i trucchi li ho messo tutti in questa pochettina qui quindi se sentite un po' di rumore è questa pochettina dicevo vado avanti col trucco spero che così riusciate un po' meglio a vederlo del solito comunque vado avanti allora inizio con ecco Grazie a tutti. 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 Questa era la mia prima proposta per le feste, ce ne saranno altre due, che quest'anno mi sono venuti in mente un po' di trucchini per le feste, insomma per chi vuole essere un po' più... per darvi più scelte, più scelte, più scelte, più scelte, più scelte, più scelte, insomma poi uno sceglie il trucco che vuole. Sono solo delle proposte, non è detto che dovete farle per forza. Comunque, spero vi sia piacere, se vi è piacere, se vi è piacere il video, se vi è piacere il video, se è la prima volta che vedete un mio video e volete vedere degli altri, iscrivetevi. vi lascio nell'info box tutti i prodotti che ho utilizzato. Per questo video è tutto. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao, ciao!